Credici fino alla fine perché bisogna andare a cercare un contatto là per poter vendere un capo d'abbigliamento. Noi stiamo partiti da niente, noi stiamo partiti veramente da niente. Quindi c'è da niente cosa significa? Significa che noi conosci qualcuno, abbiamo conosciuto una persona che aveva un parente che faceva il veterinario ad Abu Dhabi. Ecco da lì credici fino alla fine perché bisogna andare a cercare un contatto là per poter vendere un capo d'abbigliamento. Cioè la verità è questa. Una piccola ricerca di mercato, mi ricordo, abbiamo guardato i negozi che c'erano e siamo andati lì a parlarci. Sì, sì, e anche lì... Dare un bigliettino, te lo ricordi? Di niente della società, neanche del brand perché non esisteva. Dicevano fatemi vedere qualcosa, avete un workbook, un look? No, questo è un progetto. Perché non c'era, il Cavaliere Toscano non esisteva. Non esisteva ancora. Quindi siamo andati là per cercare di capire proprio in modo elementare qual è il prodotto che vi serve, come lo pagate il prodotto, quando dovrebbe essere messo sul mercato, quindi quelle famose ricerche di società, noi le facevamo così, ecco.